Scongiurato per l'intervento del governo l'aumento delle bollette luce e gas, le aziende come Estra e Prometeo chiedono di abbattere le imposte che pesano per il 45% sul costo complessivo. Centri alla società di Estra vince la gara per distribuire il GPL alle frazioni di Celle sul Rigo e Palazzone nel comune senese di San Casciano dei Bagni con un ribasso in bolletta del 40% sul costo della materia prima. Sempre più stretto il legame di Estra con la Fiorentina con il marchio della società energetica che continua a comparire sulle maniche delle maglie della società viola e nella pubblicità allo stadio Artemio Franchi. Estra inaugura a Bucina in provincia di Arezzo l'Estra Arena, il campo multidisciplinare per il salto ad ostacoli e polo che intende favorire la pratica di uno sport che ha per protagonisti il cavallo e la natura.